Il 17 maggio si è tenuto il World Information Society Day. Quanto è importante l'ICT per la qualità della vita nei paesi terzi? Nei paesi in via di sviluppo l'ICT rappresenta un'opportunità per offrire ai cittadini servizi avanzati che sono oggi disponibili soltanto ai cittadini dei paesi avanzati. In particolare nelle aree rurali di questi paesi dove si concentra la povertà, l'ICT può offrire alle popolazioni la possibilità di avere dei servizi che in qualche modo sfruttano le conoscenze sviluppate dai paesi avanzati e questo significa opportunità di crescita culturale maggiori, possibilità di istruzione collegate alle banche dati mondiali, possibilità di servizi anche legati per esempio alla salute che consentono ai medici che operano sul territorio di rimanere in contatto con i loro colleghi nei paesi avanzati. Esiste anche in Italia un problema di accesso alle tecnologie ICT? Sì, sicuramente, perché le tecnologie ICT hanno ovviamente il limite dovuto alle infrastrutture di comunicazione. Senza queste infrastrutture evidentemente non è possibile accedere a questi servizi e le infrastrutture sono costose anche per i paesi avanzati. Dunque è importante continuare a mantenere un'infrastruttura moderna e capillare. Oggi, anche nei paesi avanzati come l'Italia, esiste una percentuale non piccolissima di popolazione che rimane comunque esclusa dall'accesso ai servizi a larga banda di internet. A questo va aggiunto anche una difficoltà di accesso ai servizi legata a un gap culturale che impedisce a una fetta della popolazione di apprezzare i vantaggi che sono offerti dalla tecnologia ICT. Si pensi che in Italia, nonostante che solo circa il 4-5% della popolazione è esclusa dall'accesso a larga banda, più della metà delle famiglie o non ha un PC o non riesce ad accedere ai servizi avanzati online perché non ha la cultura informatica minima necessaria per sfruttare questo tipo di servizi. Lo stesso problema che vediamo nelle famiglie in parte si riscontra anche nelle piccole e medie imprese che rappresentano una componente importante del tessuto economico italiano. Si è fatto un'indagine che ha evidenziato come il 61% degli imprenditori di piccole e medie imprese sia poco interessato ai servizi ICT. Cosa si può fare per ridurre questo divario? Per ridurre questo divario bisogna sicuramente continuare a investire nelle infrastrutture, nei paesi in via di sviluppo questo sicuramente rappresenta l'ostacolo maggiore, gli investimenti necessari sono significativi, ma anche nei paesi sviluppati in realtà ridurre completamente o annullare il digital device significa spendere una quantità di denaro abbastanza alta. Nel paese in via di sviluppo una grossa mano può essere fornita dalle tecnologie radio che consentono di creare infrastrutture di comunicazione a basso costo, che non richiedono un investimento dal punto di vista del territorio, che possono essere facilmente installate e che consentono di raggiungere anche i villaggi più remoti con pochi investimenti e pochi apparati. Poi bisogna ridurre il digital device culturale e quindi stimolare la partecipazione dei cittadini a una crescita della società che includa i servizi di questo tipo. Infine occorre far crescere le applicazioni, occorre rendere appetibile per chi si avvicina a queste tecnologie l'imparare, superare il gap culturale, imparare e utilizzarle con servizi che possano essere percepiti realmente come un vantaggio dal punto di vista della qualità della vita.